E come ogni anno nella giornata dell'Epifania, questa mattina l'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi, ha celebrato la messa nella chiesa di San Michele in Bosco. Subito dopo la celebrazione c'è stata come da tradizione la visita ai pazienti che si trovano ricoverati nei reparti pediatrici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. I piccoli hanno incontrato l'Arcivescovo Zuppi e la Befana che ha portato doni e calze piene di dolciumi a tutti, un'iniziativa nata per regalare un momento di festa anche ai bambini che si trovano in degenza nella struttura ospedaliera. Nel pomeriggio alle 14.30 è prevista nel centro la cittadino la sfilata dello storico corteo dei Re Magi composto da vari figuranti che arriverà in piazza maggiore attorno alle 15 alla presenza dell'Arcivescovo.